Un punto percentuale degli stipendi delle famiglie italiane mangiato dai tassi di interesse sui debiti, dai mutui ai prestiti fino al credito al consumo. Questa è la rilevazione che fa un'analisi della FABI, la Federazione Autonoma dei Bancari Italiani. La quota delle rate rispetto al reddito disponibile è passata infatti dal 9,5% del 2019 al 10,5% di marzo scorso e visti i successivi aumenti del costo del Tenaro questa percentuale, questa è la previsione che si fa, è destinata anche a salire. Le famiglie più penalizzate sono quelle del centro e del sud del paese perché qui i tassi hanno subito incrementi ancora maggiori rispetto al nord. Credito troppo caro e più scarso con contraccolpi, sottolinea poi il centro studi di Confindustria, anche sulle imprese italiane.